Una curiosità inquietante che probabilmente non sapevi Iniziamo dalla prima Scommetto che non sapevi che se tu provi a salutare con gli occhi aperti Cosa scientificamente impossibile Se ci riuscite, la cosa che succederà sarà Invicinando fuori gli occhi dalle orbite Per staccarti un dito, dovresti usare la forza che usi per staccare una carota Cioè per mordere una carota E il nostro cervello ce lo impedisce Il 31 marzo 2020 si dice che si sia formato nel cielo l'occhio del diavolo Vi lascio qui una foto in sovraimpressioni perché fa paura La cosa ancora più inquietante però è che era visibile in qualsiasi parte del mondo Secondo alcune teorie si dice che il mondo in cui viviamo in realtà non è proprio così Infatti si dice che se assumi delle droghe puoi vedere il mondo com'è veramente E si dice che è per questo che sono le idee che sono vietate Boh, forse così, forse no, non lo potremmo sapere mai L'ultima è più una curiosità Cosa che dovete provare sotto questo video Commentate frullatore tenendo gli occhi chiusi Si dice che sia tecnicamente impossibile Però comunque provate di giù stesso Seguimi, lascia like e commenta più sotto frullatore con gli occhi chiusi Noi ci vediamo in un prossimo video informazione